Ciao a tutti amici, oggi 30 luglio è la giornata mondiale dell'amicizia. La giornata celebra l'amicizia tra i popoli, paesi, culture e individui con l'idea che possa ispirare gli sforzi di pace e offrire l'opportunità di costruire ponti tra le comunità. L'amicizia è un sentimento nobile e prezioso nella vita degli esseri umani in tutto il mondo. Cos'è per me l'amicizia? L'amicizia per me è un legame profondo che nasce dalla confidenza e in questo modo unisce delle persone che si vogliono bene, si rispettano e hanno stima l'una dell'altra. L'amicizia tra amici esseri umani ma anche tra animali. L'uomo approva un'enorme stima nei confronti dei propri cani e gatti. L'amicizia per me è anche saper essere un buon ascoltatore, ascoltare i problemi dell'altro, essere disponibili, essere pronti a dare una mano in ogni occasione, sapere consolare un'amica. La cosa più importante per me nell'amicizia è la sincerità, la lealtà. Amicizia non è competizione, amicizia è sapersi voler bene, accettarsi, apprezzarsi l'una con l'altra persona che ritieni tua amica. L'amicizia non è esclusiva, rivolta solamente a una persona, ma è bello avere tanti amici. Non è necessario vedersi tutti i giorni per definire una persona tua amica. Puoi incontrarla anche dopo tanti mesi e riscoprire e ritrovare sempre la tua carissima amica. Ciao! Grazie a tutti!